Si chiama Costantino Trivisonno e sabato 30 gennaio ha festeggiato i suoi 100 anni presso l'agriturismo di Rocco a Carpinone. Intorno a lui i figli Grazia e Michele, il genero Massimo, la nuora Luisa e i parenti tutti hanno celebrato l'evento regalando una targa con inciso il suo atto di nascita, mentre i nipoti Alessia e Gabriele hanno donato un'altra targa con sopra elencate le doti del centenario nonnino. Inoltre c'è stata una lettura di una poesia della nipote Marinella e una lettera dal cognato Cosimo. 100 anni, sei contento di tutto questo? Contentissimo! Bravo! Contentissimo! Costantino, qual è il ricordo più bello della tua vita, di questi 100 anni? Quando sono diventato papà e Nina è diventata mamma! Bravissimo! Bellissimo! Già dalla risposta che ha dato ci ha fatto capire quanto è speciale. Lui è diventato papà dopo 16 anni di matrimonio. Per lui è stata la più grande vittoria. È stato un papà speciale perché è sempre presente. Grazie a tutti! Grazie.